Ora la domanda è come può Alessio rimanere nel baule con il tunnel inserito? Guardate bene ogni dettaglio e cercate di capire cosa succede, come ho fatto. Vi propongo quattro possibili soluzioni. Solution 1. Numero 1. Un miroir. Un gioco allo specchio. Solution 2. Soluzione numero 2. Un trucaggio video. Un effetto video. Solution 3. Contorzionista. E soluzione numero 3. Il contorzionista. E soluzione numero 4. Alessio non è mai entrato nel baule.